Ciao a tutti e bentornati su questo canale, siamo oltre 108.000 iscritti, davvero tantissimi, continuate a farlo perché questo è uno spazio libero, non abbiamo paura di dire determinate cose, di dare determinate informazioni, di ricordare alcuni fatti, di prendere determinate posizioni, neppure paura delle rappresaglie mediatiche attraverso i tentativi di delegittimazione verso tutti coloro che osano avere pensieri di simile a pensiero dominante, cercano appunto di zittire o castrare tali pensieri. Qui noi ci comportiamo onestamente in maniera diversa rispetto anche a molti, non tutti, giornalisti divenuti simbolo di pavidità o difensori di verità comodo, delle loro comfort zone, spesso non sempre ben retribuite e spesso, come dire, limitate anche da poteri e pressioni molto molto forti. Io sono preoccupatissimo rispetto a quel che sta succedendo in Ucraina, dalla mobilitazione in poi sono sempre più preoccupato, sono preoccupato perché non credo minimamente che sia impossibile nelle prossime settimane l'utilizzo di un'arma nucleare tattica, ho sempre detto che occorreva trovare una soluzione diplomatica per il bene in primis dell'Ucraina, poi dell'Europa, poi della popolazione russa, per l'amor di Dio. Evidentemente io sono convinto che nessuno l'ha cercata perché l'obiettivo era prolungare la guerra per ottenere il grande obiettivo strategico e geopolitico americano, e vi darò dei fatti e delle informazioni per dimostrarlo, che è quello di separare definitivamente un cordone umbilicale economico e anche politico tra Russia e Unione Europea. Questo è l'obiettivo geopolitico degli Stati Uniti d'America, questo è l'obiettivo principale delle sanzioni che non avevano come obiettivo la fine della guerra immediata o buttare giù Putin, no, l'obiettivo era e lo si sta ottenendo e credo che ormai con il sabotaggio ai gasdotti sia definitivamente ottenuto la separazione definitiva o quantomeno per i prossimi 20, 30, 40 anni tra Russia e Unione Europea. E per me questo è negativo anche, diciamo, va contro anche gli interessi europei. Ma è un obiettivo strategico geopolitico che gli americani cercano di fare a diversi anni, che hanno ormai praticamente ottenuto e che va a vantaggio esclusivamente loro. Partiamo appunto da quello che è successo nel Mar Baltico, poi arriviamo anche alla mobilitazione, tutto quanto alla fuga dei russi dalla Russia, eccetera. Il Times ieri, le esplosioni dei gasdotti dovute a esplosivi collocati dai russi attraverso dei droni. Questa è la versione chiaramente, secondo me, governativa più che giornalistica, perché purtroppo, purtroppo alcuni giornali, pensate banalmente a come si comportarono i giornali americani, quando Corinne Powell mostrava la provetta sostenendo che vi fossero delle armi di istruzioni massi in Iraq. E grazie anche a quella propaganda, propagandata dai giornali americani stessi, la pubblica opinione, o comunque gran parte della pubblica opinione americana, si è convinta della bontà, della necessità dell'intervento militare in Iraq, che ha causato morte di centinaia e migliaia di persone, accordi più po' alle sanzioni precedenti e successive, e che evidentemente è stato fatto per ragioni geopolitiche, tra l'altro anche in questo caso legate a idrocarburi, appunto a petrolio, e non certo perché gli interazioni ai diritti umani, figuriamoci, come la storia della guerra in Libia, perché Gheddafi violava i diritti umani, come sta la Libia oggi? Le carceri in Libia oggi che sono esempio, che sono hotel a 5 stelle. Ecco, ricordate come si comportò la stampa allora, e temo che oggi una gran parte della stampa continua ad essere sostanzialmente un organo di propaganda governativa e non quel potere che dovrebbe controllare il potere. Lo vedo anche banalmente leggendo i nostri giornali, alcuni, non tutti, ma molti i nostri giornalisti utilizzano la CIA, le informazioni che provengono dalla CIA, le posizioni legittime di un'agenzia di intelligence, la più importante al mondo, come se fosse una fonte giornalistica, come se gli agenti segreti o i comunicatori della CIA fossero, non lo so, dei reporter o dei giornalisti investigativi, e no, è un'agenzia governativa che lavora per fare gli interessi del governo, che di fatto la controlla, non è una fonte, un'agenzia di stampa, è un'agenzia di intelligence. Succede tutto questo. Torniamo alla questione gasdotti e facciamo un po' di storia. Prima della costruzione dei gasdotti attraverso il Baltico, il Nord Stream 1 entrato in funzione nel 2011 e il Nord Stream 2 completato nel 2021, l'anno scorso, ma mai entrato in funzione perché gli americani non hanno voluto che entrasse in funzione. Il gas in Europa, il gas russo, arrivava già negli ultimi anni, diciamo, progettati alcuni gasdotti negli anni 70 e poi completati nei primi anni 80 all'epoca appunto sovietica, soprattutto attraverso l'Ucraina e la Bielorussia. Tre gasdotti. Il gasdotto Yamal, che esiste tuttora, portava, poi credo che ci sono state delle interruzioni, comunque il gas siberiano proveniente dai grandissimi giacimenti della Siberia Nord Occidentale, attraverso la Bielorussia, attraverso la Polonia, poi in Germania, tutta Europa. E poi altri due che passano attraverso l'Ucraina, il Soyuz e il Brotherhood, che attraversa appunto l'Ucraina, poi altri paesi europei portano il gas russo in Europa. I russi, dal loro punto di vista geopolitico, negli ultimi anni hanno cercato il più possibile, anche per guadagnarci di più, per evitare appunto di, uno, di stare sotto un possibile potere, quello appunto dei paesi dove passano i loro gasdotti, ma anche di guadagnarci di più in un certo senso, di privilegiare nuovi gasdotti che portano direttamente il gas in Germania, la Germania è il cuore economico europeo, poi dalla Germania in altri paesi, il gas appunto siberiano in Europa, in Germania, attraverso il Mar Baltico, parliamo appunto del Nord Stream 1 e il Nord Stream 2. Gasdotti sostenuti in maniera preponderante da Angela Merkel durante appunto il potere Merkel in Germania. Ricordatevi che il Nord Stream 1 venne inaugurato dalla stessa Angela Merkel in compagnia di François Fillon, che all'epoca era il primo ministro francese, e Medvedev, che all'epoca era presidente della Federazione Russa, nel 2011 inaugurato con sorrisi, l'Europa si rafforza, successivamente ampliato, in un certo senso è stata creata un'altra linea, sempre la nostra Immuno, e poi nel 2015, quindi un anno dopo la crisi Euromaidan e poi il colpo di Stato bianco, comunque la prima crisi ucraina, vennero firmati alcuni accordi per costruire il Nord Stream 2, che poi è stato, non dico inaugurato, completato, ma mai entrato in funzione l'anno scorso. Gasdotto che in un certo senso potrebbe, o avrebbe potuto ormai consentire ai russi di portare gas in Europa e ai tedeschi di acquistare del gas di ottima qualità a prezzo basso, senza dover passare attraverso altri paesi. In un certo senso questo impatto negativo per le economie polacche e soprattutto per l'Ucraina, che dopo appunto Euromaidan rappresentava non più un paese amico ai tempi, prima che appunto fosse destituto Yanukovych, era sotto Yanukovych, l'Ucraina era un paese amico dei russi, ma un paese potenzialmente nemico, con addirittura delle organizzazioni militari neonaziste che in Donbass facevano quello che hanno fatto. Parliamo sempre di geopolitica, geopolitica etica non hanno nulla a che vedere, si tratta di interessi per lo più economici. Il gasdotto Nord Stream, anche per arrivare a ipotizzare possibili responsabili, io non lo so come sono andate le cose, so quello che è avvenuto in passato, so che già nel 2019, quindi prima che venisse completato il Nord Stream 2, l'ambasciatore americano a Berlino inviò una serie di lettere a tutte le imprese coinvolte nella costruzione o gasdotto che appartiene, se non sbaglio, il 100% di proprietà di Gazprom, questa immensa impresa di energia russa sotto il controllo del governo russo, ma che alla costruzione hanno lavorato appunto tante tante società europee, ecco l'ambasciatore americano a Berlino inviò tante lettere a tutte queste società minacciando in un certo senso sanzioni se avessero continuato a lavorare appunto a progetti legati al gasdotto. Sempre nel 2019 Donald Tansk Fischer, fino a pochi mesi fa presidente del Partito Popolare Europeo, un polacco, è stato premier polacco, è stato anche il presidente del Consiglio Europeo, nel 2019 dichiarò il Nord Stream 2 non è nell'interesse europeo, senz'altro non è nell'interesse polacco, è nell'interesse tedesco, secondo me anche dell'Italia, ma il tema qual è? È l'ennesima dimostrazione che l'Europa unita è una balla, oggi l'Europa è costretta a far finta di essere unita perché le pressioni americane e gli ordini americani sono sempre più forti, preponderanti anche perché non c'è un politico, non c'è più come la Merkel, criticabile per tutta una serie di questioni, a me è capitato in passato, sono messo alcune cose e ho anche sbagliato io, ma senz'altro più indipendente dal punto di vista politico rispetto a Scholz. Perché vi dico questo? Perché nel febbraio scorso Scholz andò in visita, l'attuale cancelliere tedesco, andò in visita di Biden alla Casa Bianca e Biden disse, devo trovare la dedicazione perché la voglio leggere perfettamente, se la Russia invade l'Ucraina non ci sarà più il Nord Stream, porremmo fine a tutto questo. Questo ha dichiarato Biden davanti a Scholz, Scholz in visita appunto alla Casa Bianca. Cioè il presidente americano dice, cioè il problema non è lui che lo dice, è Scholz che si è stato zitto, cioè dice se la Russia dovesse invadere l'Ucraina il Nord Stream 2 non andrà avanti e quando la giornalista le chiede ma come potete farlo dato che il progetto è sotto il controllo della Germania, Biden risponde te lo prometto siamo in grado di farlo. Il mese precedente se non sbaglio si era di dicembre, due mesi prima, Victoria Nuland, tra l'altro è interessante, andatevi a vedere chi è Victoria Nuland o ricordarvi chi è, è colei che intercettata credo fosse il 2014, nel febbraio 2014, mentre parlava con l'allora ambasciatore americano in Ucraina, Geoffrey Pyatt, dice quando si parlavano di tentativi di pacificazione in interventi, lei sostiene questo, si vada a far fottere l'Unione Europea, come dire qua comandiamo noi. E dovete sapere che Victoria Nuland, che era all'epoca tuttora importante dal punto di vista diplomatico, diciamo dei legami politici degli Stati Uniti con l'Ucraina e con l'Europa orientale, era vice segretario di Stato americana, assistente al segretario di Stato credo all'epoca fosse John Kerry, per gli affari europei ed ero-asiatici. E Victoria Nuland, per tornare, poi dico una cosa anche sul marito, per tornare alla questione appunto Nord Stream 2, sempre nel febbraio 2014, ha dichiarato la stessa identica cosa, se la Russia invade l'Ucraina in un modo o nell'altro, parole di un importantissimo partitivo diplomatico americano, se la Russia invade l'Ucraina in un modo o nell'altro il nostro Stream 2 non andrà avanti. Questa è una serie di informazioni di fatti accertati rispetto a, senz'altro, coloro che hanno sempre temuto la messa in funzione, la costruzione e poi la messa in funzione del nostro Stream 2, per capire qual è il paese, anche i britannici e gli americani anche britannici, che comunque utilizzano soprattutto il gas norvegese, tra l'altro, mentre venivano evidentemente sabotati questi gasdotti, nelle stesse ore più o meno, veniva inaugurato un'altra parte di un gasdotto che porta il gas norvegese, anche la Norvegia è un paese ricco, ricco di gas, in Polonia. La Polonia, che appunto temeva che il gasdotto Nord Stream 2 potesse ostacolare i suoi interessi, perché c'era un gasdotto che un tempo portava, è tuttora in funzione, in un certo senso, tuttora utilizzabile, il gas russo attraverso l'Abero Russo e la Polonia in Germania. Vedete come è tutta una questione economica, altro che diritti umani, resistenza ucraina, questa è la propaganda, poiché gli ucraini abbiano tutto il diritto barra dovere di resistere a un'aggressione per l'amor di Dio, ma la storia, la storiella che si tratta di una guerra Russia-Ucraina è passata, questa è una guerra Nato-Russia in Ucraina. Con complicazioni, conseguenze devastanti, in primis per il popolo ucraino, voglio vedere poi quando gli americani avranno definitivamente ottenuto quello che hanno cercato, la separazione tra Russia e Europa, in quanti, soprattutto in virtù delle crisi economiche, guardate come sta oggi anche la situazione finanziaria in Gran Bretagna, quello che sta succedendo oggi, voglio vedere quanti saranno pronti a ricostruire, a sostenere economicamente l'Ucraina, con tutti i guai che abbiamo oggi e che avremo sempre di più come paesi europei, perché è evidente che la separazione tra Russia e Unione Europea colpisce gli interessi russi, ma colpisce anche gli interessi europei, in primis della Germania e quindi anche dell'Italia, che è estremamente legata dal punto di vista economico alla Germania. Tornando appunto alla Newland, vorrei soltanto segnalare una cosa, non so se sapete chi è il marito della Newland, si chiama Robert Keegan, che è un importante diplomatico politologo americano, un tempo repubblicano, poi in rotta con Trump ha sostenuto credo alle elezioni presenziali americane quando Trump sconfisse la Clinton, e recentemente ha fatto, quindi un uomo, diciamo un neocon, sostenitore appunto, in certo senso anche della russofobia, dell'esigenza appunto dal punto di vista americano di separare Russia e Unione Europea, e ha dichiarato, per quanto sia osceno incolpare gli Stati Uniti per il disumano attacco di Putin, insistere che l'invasione non fosse del tutto provocata e ingannevole, questo perché gli eventi di oggi stanno accadendo in un contesto geopolitico nel quale gli Stati Uniti hanno giocato e continuano a giocare il ruolo principale, come dire, anche in Ucraina, anche in Europa, chi comanda siamo noi, tante hanno le basi americane, hanno bombe nucleari in Europa che possono azionare loro, hanno sistemi di satelliti estremamente moderni, hanno decine di migliaia di militari appunto sul territorio europeo e si è visto come stanno comandando anche rispetto appunto al silenzio di Scholz. Ripeto, perché ricordiamo le cose, vi sembra possibile che un Presidente degli Stati Uniti d'America possa dire qualora i russi dovessero invadere l'Ucraina, noi smetteremo di comprare qualsiasi cosa, metteremo tutte sanzioni, non compreremo un centesimo di petrolo russo, chiederemo ai nostri partner di fare tutto legittimo, ma il progetto Nostrim non andrà avanti, Nostrim 2, che è un progetto appunto che riguarda Russia, Europa e Russia e Germania, con Scholz zitto. Immaginate il contrario, immaginate, non lo so, anni fa Bush che va a visitare la Merkel, oppure andava a visitare, viene in Italia, a visitare Berlusconi e i nostri politici europei dicono, io ve lo dico, qualora gli Stati Uniti dovessero invadere l'Iraq, tra l'altro con la balla dell'armi istituzione di massa, quel gasdotto, quell'oleodotto che passa attraverso il Golfo del Messio, che porta, non lo so, gas o petrolio in Messico e all'esterno d'America, finirà. Cioè, come avrebbe reagito il Presidente americano? Invece Scholz zitto, ubbidiente, cioè questo è l'esempio che l'Unione Europea purtroppo oggi non conta più, non c'è nessun politico con la spina dorsale, tant'è che nessun politico ha provato veramente a lavorare per la pace e le prime dichiarazioni della Meloni, probabilmente al 99,9% futuro Premier dell'Italia, vanno nella stessa direzione della pavidità. Twitta con Zelensky, ribadisce l'appoggio incondizionato all'Ucraina e non parla della parola pace, nessuno più parla della parola pace, io sono spaventato anche dei possibili ulteriori, purtroppo, step di questa escalation. C'è chi in questo paese da nove mesi, da otto mesi sostiene che vi fosse necessità di un dialogo, di un negoziato? Negoziato significa ottenere qualcosa cedendo qualcosa, questo è un negoziato, no? Negoziato non è prima lasciate il Donbass e la Crimea e poi ci sediamo, questo non è un negoziato, questo è portare avanti la guerra. Negoziato significa ottenere qualcosa, in cambio della cessione qualcos'altro. Io sono mesi che dico che l'Europa avrebbe potuto dire disponibili a riconoscere la Crimea, che è russa, ci abitano soprattutto, soprattutto non tutti, poi ci sono i tatari di Crimea, cittadini che si sentono russi, tra l'altro come in Donbass, non del tutto, ma in Donbass ci sono, ripeto, milioni di persone che sono cittadini ucraini ma non si sentono ucraini ma si sentono russi e questo è un dato di fatto che va considerato per trovare una soluzione, perché la soluzione va trovata e per me occorreva e occorre una soluzione politico-diplomatica e non militare. C'è chi in questo paese, sono otto mesi che sostiene questo e viene definito putiniano, ha visto le armi stanno funzionando, a fare cosa? Hanno fatto delle armi, tra l'altro, incredibilmente sofisticate, costate miliardi e miliardi di dollari dei contribuenti americani e dei contribuenti europei, tagliati tra l'altro con questi soldi al sistema allo Stato sociale americano, allo Stato sociale europeo, dunque denari che hanno allargato e provocato l'aumento della crisi senz'altro economica e sociale nel nostro paese e in Europa. Ecco, tutto questo non ha posto fine alla guerra, ha senz'altro favorito una controoffensiva ucraina, costata però la vita di migliaia di soldati, ragazzi anche loro ucraini, tanto non sono morti nostri, tanto il sangue ucraino che ci importa? Fino all'ultima goccia di sangue ucraino? E quindi poi i russi rispondono con una mobilitazione che è evidente che sta oggi creando degli enormi problemi anche dal punto di vista economico. Oggi molto di più delle sanzioni, il prolungamento della guerra sta causando i danni all'economia russa, non le sanzioni o quelle sanzioni, ma il prolungamento della guerra, che per me è l'obiettivo americano, prolungare la guerra, perché è evidente che stiano fuggendo, forse più di 250.000 russi se ne sono già andati, ovviamente i russi i più facoltosi che possono vivere fuori dei mesi o lavorare da fuori, certo chi lavora in una fabbrica difficilmente se ne va perché non ha i soldi per farlo, è evidente, ma questo tra l'altro anche qui la propaganda occidentale, guardate fuggono tutti, ma ci credo bene, ma perché se domani la Meloni, non lo so, discesse, sto facendo un'ipotesi e non succederà mai, me lo auguro, mobilitazione parziale perché dobbiamo combattere un'Ucraina, quindi dobbiamo mandare 200.000 cittadini, giovani italiani a combattere un'Ucraina, quanti se ne andrebbero in Svizzera, in Spagna e in Francia? In quanti? Giustamente, giustamente. Ci sono manifestazioni oggi in Russia contro la mobilitazione? Assolutamente sì. Che non c'erano manifestazioni in America contro il Vietnam? La gente non la vuole la guerra, non la vogliamo noi, non la vuole la pubblica opinione italiana e non la vuole la pubblica opinione russa, poi esiste la propaganda da una parte o dall'altra che cerca di spingerci, di convincerci della bontà o della guerra per procura o di una guerra fatta direttamente con la mobilitazione, tant'è che come ci sono tanti russi che fuggono, per me giustamente, ci sono tanti russi che si arruolano o ci sono state manifestazioni favorevoli a questi referendum che ci sono, la risposta europea è farsa, farsa, farsa. Io ci sto che l'Europa non debba anche in chiave negoziale riconoscere il risultato, anche perché tale referendum va contro il diritto internazionale, ma in chiave di un possibile negoziato, perché il problema resta, perché come in Kosovo, un tempo territorio jugoslavo ci vivevano e ci vivono, ci sono ovviamente enklav serbe, la maggior parte di abitanti sono tuttora albanesi, erano albanesi. In Donbass la maggior parte di cittadini, cittadini ucraini, che non si sentono ucraini ma si sentono russi e questo è un problema aumentato da repressione culturale e anche atti militari di violenze enormi compiuti anche da milizie neonaziste ucraine e appunto restrizioni di determinati diritti, tentativi di evitare che la lingua russa fosse insegnata nelle scuole in Donbass, tutta una serie di tentativi atti per me a provocare un escaletto, perché l'obiettivo è stato quello di provocare tale escaletto per una serie di enormi questioni energetiche, geopolitiche, politiche, economiche, finanziarie, perché poi c'è chi si arricchisce con la guerra. Ma io mi aspetto dai politici europei un comportamento diverso, comunque torniamo alla questione Castutti. Io vi ho ricordato le dichiarazioni Blinken, anche lui nel 2021, quindi prima dell'invasione russa, viene in Europa e sostiene che il progetto Nord Stream 2 è contro l'interesse europeo-americano, senz'altro contro l'interesse americano. Guardate le dichiarazioni di oggi, gasdotti ormai resi inutilizzabili, fonti tedesche sostengono che i due gasdotti probabilmente saranno compromessi per sempre, e gli americani che subito dicono noi siamo pronti, siamo pronti a fornirvi più gas, che pensate, ce lo danno gratis. Il gas famoso, gas liquido, che tra l'altro deve essere trasportato, non lo so, quanti chilometri ci saranno in linea d'area da New York e Roma, 7000 chilometri, i progetti Nord Stream 1222 chilometri, se non sbaglio i gasdotti, no? È più vicino il gas russo. Quindi pensate anche all'impatto, parte anche ambientale, quello che sta succedendo oggi nel Baltico, la fuoriuscita del gas, ma anche l'impatto ambientale futuro rispetto appunto a tutto il gas americano che sostituirà nell'interesse americano il gas russo. E quanto ce lo faranno pagare? E il prezzo del gas aumenta? E che verrà mai posto un tetto al prezzo del gas americano? Ma quando mai? Ma quando mai? Cioè mettiamo insieme i pezzi anche per capire le possibili responsabilità. Blinking che minaccia anche sanzioni, anche lui come già aveva fatto un ambasciatore americano nel 2019. Nel 2021 Blinking, che è il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano, minaccia sanzioni alle aziende europee che lavorano al gasdotto Nord Stream 2. La Nuland che dice se i russi invadono, occhio che è finito quel progetto. La stessa identica cosa che dice Biden, l'ambasciatore ripeto che invia le lettere, è Donald Tansk che appunto sostiene il premier polacco che quello non è l'interesse nell'interesse europeo. E a proposito di Polonia Radoslav Sikorsky, ex ministro degli esteri, attuale europarlamentare polacco, ex ministro degli esteri polacco, ieri o l'altro ieri su Twitter ha pubblicato la foto appunto della fuoriuscita del gas nel Balte con scritto grazie americani, thanks USA. E poi successivamente ha risposto, non so, forse ha addirittura un tweet di risposta di autorità russe dicendo ormai 20 miliardi di dollari esultando, no? Tanto mica ce l'hanno messi loro, giacciono, stanno giù nel fondo del Mar Baltico e si è trattato di una operazione di manutenzione speciale, cioè evidentemente utilizzando ironicamente questo termine per ricordare l'operazione militare speciale fatta da Putin in Ucraina. Un ex ministro degli esteri dice tutto questo. Credo che dobbiamo mettere assieme tutti i pezzi, credo, ripeto, che la separazione economica politica tra Russia e Europa sia nefasta soprattutto in prospettiva nei prossimi anni drammatica per la Russia. Poi ci vorranno anni per costruire cose che stanno facendo gasdotti che porteranno attraverso la Repubblica Bureazzi e la Mongolia il gas siberiano in Cina, senza altro stanno vendendo carbone e petrolio in India, stanno provando a rafforzare soprattutto dove sono stato, nel fariste russo una serie di relazioni, ma la tragedia c'è. Oltretutto con i gasdotti ormai compromessi definitivamente neppure c'è più una sorta di argomento di negoziato. Ritirate, li mettiamo in funzione, quei gasdotti, anche perché gli americani non gliene frega nulla per me della pace oggi. Chi interessa? Il loro interesse economico e le loro vittorie strategiche. E la vittoria strategica per gli americani è la separazione delle relazioni economiche e politiche tra l'Unione Europea, che è un obiettivo che per me di fatto hanno raggiunto, chissà che questo non porterà alla pace. Poi voglio vedere se una volta appunto fuori uso definitivamente i gasdotti nel Baltico, magari sacrificheranno il Donbass. Chi lo sa, anche con questa storia del referendum, che comunque a puntista politica è un altro problema, e anche potenzialmente militare. Leggetevi quello che ha detto il generale Bertolini, ex comandante della Folgore, tra l'altro uno, credo ex candidato, addirittura i Fratelli d'Italia, l'ultima elezione europea, ma non perché spesso sostiene, parla dell'espansionismo della Nato, viene considerato comunista, nostalgico dell'Unione Sovietica, Putin vuole fare la nuova Unione Sovietica, questo generale ha posizioni di destra, è un ex candidato di Fratelli d'Italia che sostiene che questo sia il momento di trattare perché potenzialmente l'esito scontato di quel referendum è potenzialmente pericoloso, perché che cosa avverrà adesso, se non erro, sono andato a leggere un po' di documenti, la legge di annessione arriverà alla Duma, un ramo del Parlamento, il Parlamento russo, poi arriverà al Consiglio federale, una sorta di Senato delle varie federazioni, delle varie repubbliche russe o degli enti russi o dei territori russi, che la voterà, immagino verranno votata questa legge di annessione appunto dei territori del Donbass e poi tale legge finirà sulla scrivania di Putin, il quale dirà adesso che facciamo? Che vogliamo fare? Perché se metto la firma questi territori ufficialmente diventano parte della federazione russa e poi entra la dottrina militare di difesa, che prevede anche l'utilizzo di armi nucleari per difendere i confini nazionali trattandosi questi dal loro punto di vista, non sto dicendo, io parlo sempre del loro punto di vista, però se si vuole la pace, se si vuole la pace, si vuole ragionare, è importante il loro punto di vista anche, non soltanto il nostro, ecco, la dottrina militare, pericolosissima, ho provato a unire un po' i pezzi, credo, ah, voglio soltanto terminare con la Merkel, perché secondo me ha fatto delle dichiarazioni importantissime, l'ha fatto durante l'inaugurazione, credo, la fondazione Helmut Kohl, Putin va preso sul serio, prendiamo sul serio le parole di Putin, minacce atomiche, tra l'altro minacce atomiche, anche dette le stesse minacce fatte dalla premier britannica qualche settimana fa, quando anche lei, con nonchalance, tutti quanti parlano di più armi, più armi micidiali, più, come dire, la possibilità di premere il bottone atomico, con nonchalance, con nonchalance, blefferanno, boh, io me lo auguro, fatto sta che la Merkel, e non è un caso che con l'uscita della Merkel sia aumentata la crisi, prendiamo sul serio le parole di Putin e non liquidiamole come un blef, confrontiamoci seriamente e confrontarsi seriamente non è affatto un segno di debolezza, ma di saggezza politica, questo l'ha detto forse il politico più importante degli ultimi 15 anni in Europa, una saggezza che aiuta a mantenere un margine di manovra o a svilupparne di nuovi, io queste parole le interpreto come un tentativo disperato di provare a far capire, quantomeno ai politici tedeschi, che occorre ritornare a trattare, a tirare fuori, a trovare una soluzione diplomatica prima che sia troppo tardi, io le interpreto così, ricordo che la Merkel fu appunto una politica in un certo senso che aveva un rapporto molto molto diretto con Putin, andò in Russia tante volte, la Merkel parla il russo, la Merkel è della Repubblica Democratica Tedesca, credo che quando la Merkel viveva a Dresda, a Dresda lavorava come agente del KGB lo stesso Putin, hanno un rapporto, diciamo si conoscono molto bene, la Merkel ha sostenuto politicamente fortemente i progetti nostri immune, due, la Merkel venne intercettata, era il 2014-2013, da i servizi segreti americani, ve lo ricordate? Ce le ricordiamo certe cose? Venne intercettata, chiamò furiosa Obama chiedendo spiegazioni e parlando proprio di rapporti in un certo senso indeboliti da tale azione, poi Obama si giustificò, comunque uscirono queste indiscrezioni e vi furono tentativi, credo dato che gli americani li sanno fare intercettazioni, portati a termine dagli americani appunto di intercettare il politico più importante europeo, politico che aveva determinate relazioni importanti con la Russia e con Putin e che sosteneva più di ogni altro appunto la necessità, senz'altro utile all'economia tedesca, secondo me appunto anche in un certo senso anche utile all'economia italiana che è indissolubilmente legata all'economia tedesca, dei progetti di Gasdottono Stream 1 e 2 per avere più gas di buona qualità a prezzi più bassi appunto in Europa. Questo è quanto, io sono preoccupatissimo, mi auguro proprio in una sorta di colpo di coda pacifista, diplomatico, ora che in un certo senso gli americani hanno ottenuto più o meno tutto quello che volevano ottenere. Nuova corsa a riarmo, richiesta Nato da tanti anni, comunque non più in funzione ai Gasdotti, separazione e sanzioni, una separazione molto molto importante dell'economia, per me definitiva, trentennale, tra le economie russe e europee. Obiettivi strategici, geopolitici, americani, ma dichiarati alla luce del sole, non c'è complotto qua, l'hanno sempre detto. Ora che li hanno ottenuti chissà che non si possa arrivare a un cessato il fuoco, in tal caso verrebbero sacrificati i territori del Donbass, probabilmente. Oppure, qui l'escalation è tale che, o sì, trova un'altra soluzione diplomatica, oppure tra qualche settimana magari qualcuno accuserà coloro che sono mesi che dicono occhio che questa strategia porta all'escalation, a una maggiore intensità di guerra. Avete visto? Putin ha buttato una bomba atomica, roba non deprecabile di più. Tra l'altro buttare le bombe nucleare, anche tattiche, obiettivi spesso non soltanto militari, ma appunto geopolitici. Pensate anche le bombe americane in Giappone, buttate sostanzialmente a guerra vinta, per dare una dimostrazione al mondo intero, sacrificando decine e decine, forse centinaia e migliaia di vittime civili giapponesi. Questa è la geopolitica, non ha nulla a che vedere con l'etica, purtroppo. Per me la politica e la geopolitica dovrebbero anche avere a che fare con l'etica, tutto dovrebbe avere a che fare con l'etica e la morale. Non si vede questa roba qua, pensate a tutte le guerre fatte negli ultimi anni, sempre legate a interessi economici, energetici. Però dall'Europa, nata appunto anche subito dopo la seconda guerra mondiale, l'Europa che ha visto morti su morti, peggiori bombardamenti, l'Europa, e parliamo diciamo di tutta l'Europa, anche della Russia, fino agli urali Europa, che ha subito il numero maggiore di vittime durante la seconda guerra mondiale, ecco, dall'Europa mi sarei aspettato e mi aspetto ancora uno scatto diplomatico dei tentativi politici di risoluzione delle, di determinate controverse internazionali e un minimo di schiena un po' più dritta, perché quello che hanno fatto, quello che hanno detto, come si sono comportati i politici, soprattutto Draghi poi, l'Europa negli ultimi mesi per me è stato avvilente, lo stesso Draghi che tra l'altro utilizzava alcune espressioni proprio di Robert Keegan, il marito di Victoria Nuland, in un discorso che ha fatto recentemente in Parlamento come con oggetto appunto la guerra in Ucraina. Mettiamo assieme i pezzi e soprattutto non abbiamo paura di pensare, di prendere posizione e di informarci in un modo il più possibile indipendente. Buona giornata a tutti!